Bella, bionda, figlia d'arte ed ex moglie di Luca Argentero, ecco chi è l'attrice e doppiatrice Miriam Catania. Classe 1979, Miriam nasce il 12 dicembre a Roma da Rossella Izzo, celebre doppiatrice e regista, e dal ginecologo Vincenzo Catania. Fin da piccola dimostra interesse per il mondo dello spettacolo, diventando la voce di alcuni fra i più famosi personaggi di cinema e serie tv. Fra questi la Rory Gilmore del serial Una mamma per amica. Ma non solo doppiaggio, come attrice fra i diversi lavori partecipa al film del 2010 Tutto l'amore del mondo con Nicolas Vaporidis e veste il ruolo della fidanzata di Alessandro Roia nella serie di Rai 1 e Arrivata la Felicità. Molti ricordano poi l'antipatica Nicoletta, interpretata nel 2000 nella fiction di Canale 5 Le Ali della Vita, successo tv con Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Miriam è conosciuta anche per il carattere ribelle, che per più di dieci anni è stato domato dal bellissimo attore Luca Argentero. I due si conoscono nel 2004, un vero colpo di fulmine che dopo cinque anni di fidanzamento li fa convolare a nozze. Per anni Miriam e Luca sono una delle più belle e chiacchierate coppie dello showbiz, fino a quando nel 2016 non ufficializzano la separazione. Oggi la frizzante attrice ha un nuovo compagno, Quentin Kamerman, pubblicitario di nazionalità francese, con cui a maggio 2017 ha dato alla luce il primo figlio, Jacques.